Colpo di mercato della Punto Hotel Sala Consilina, che si è assicurata alle prestazioni della russa Natalia Kulikova. 32 anni, alta 1,87 m, la Kulikova è una schiacciatrice che si distingue sia per avere un braccio potente, sia per essere anche un ottimo ricettore. Di indiscusso valore internazionale, basti pensare che nel 2006 ha vinto il campionato del mondo con la propria nazionale. Natalia Kulikova ha sempre militato in compagini di Serie A in Russia ed in Turchia. La Kulikova è il tassello che mancava nello scacchiere di coach Guadalupi. La russa rappresenterà sicuramente quel valore aggiunto con cui il roster salese potrà mirare in maniera più tranquilla al traguardo salvezza. Abbiamo deciso di acquistare una pallavolista del calibro della Kulikova in quanto vogliamo assolutamente rimanere in Serie A, ha dichiarato il direttore generale della Punto del Giuseppe Sarno. Non è stato semplice, ma alla fine siamo riusciti a convincerla. Natalia per noi risulterà fondamentale in questo finale di stagione. Intanto, la squadra salese, dopo la sosta di campionato, continua ad allenarsi in vista del delicato match di domenica prossima. La Punto Hotel sarà impegnata in trasferta contro la capolista Metalleghe Sanitras Montichiari, una gara in cui le cicognine di coach Guadalupi dovranno superarsi per far risultato su di un campo sinora mai violato da nessuna squadra. Le Bresciane, infatti, non hanno mai perso un match casalingo.